Desiree Amato, 22 anni, è l'unica sopravvissuta al massacro di Cisterna di Latina. Per questo, il suo racconto è molto importante per gli inquirenti, per capire esattamente quanto è accaduto nella sua casa in cui l'ex fidanzato, il finanziere Christian Sodano, ha ucciso la mamma e la sorella di Desi. L'ho visto tornare verso la porta di casa con la pistola, allora ho cominciato a urlare con tutto il fiato che avevo in corpo e sono scappata. Ha sparato prima René, poi a mamma. Sono stati tanti colpi, ha spiegato davanti agli inquirenti. L'uomo era una furia, ha sfondato la porta del bagno dove la 22enne si era nascosta. Desiree è fuggita dalla finestra nascondendosi in una legnaia. Quando ha capito che Christian era andato via, è corsa da un benzinaio chiedendo aiuto, spiegando che Christian la voleva uccidere. Di lì a breve l'arrivo dei poliziotti e la fine di un incubo. Si conoscevano da nove mesi, le cose non andavano bene, lei voleva lasciarlo. Lui ha iniziato a minacciarla, faccio male a te e ai tuoi parenti, poi mi uccido, ha promesso il finanziere. Quando lei ha restituito una maglietta e un anello, il militare non ha capito più nulla e ha iniziato il massacro.